Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, sembra incredibile ma siamo di fronte a una notizia straordinaria che senza dubbio sta con i piani climatici del World Economic Forum. Le banche centrali non devono guidare la lotta al cambiamento climatico, le istituzioni non dovrebbero occuparsi di questioni sociali al di fuori del loro mandato. Beh, queste belle parole non avrebbero in sé grande valore se non fossero state pronunciate con vigore dal capo della Fed, Jerome Powell, e soprattutto sono state fatte ieri, 10 gennaio, durante un simposio internazionale sull'indipendenza delle banche centrali a Stoccolma. Ora vi leggo testualmente le parti salienti del resoconto fatto dal Telegraph. Sono convinto che comprenderete l'importanza di quanto sta accadendo. È indubbiamente una grandiosa buona notizia che ci permettiamo di commentare. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.